Cinque amici e un sogno. Ripensare il concetto di pizza in chiave contemporanea e creare un format di successo. È così che con impegno e coraggio Lievità si inserisce nel panorama food con una proposta inedita e innovativa basata su tre valori fondamentali. Leggerezza e digeribilità dell'impasto. Realizzato con farine integrali e semi integrali macinate a pietra. Qualità degli ingredienti sempre freschi e di stagione. Selezionati con cura tra eccellenze italiane e artigianali. Un team formato negli anni che oggi conta 35 dipendenti con un'età media di 26 anni. A tutto questo si aggiungono solide partnership. Il primo store viene inaugurato nel 2015 e dopo un solo anno riceve due spicchi gambero rosso. Nel 2017 e 2018 aprono in rapida successione il secondo e il terzo locale. Ed è proprio nel 2018 che Lievità viene incoronata dallo chef Alessandro Borghese come miglior pizzeria gourmet di Milano. Ma l'espansione continua. Nel settembre 2020 nasce il quarto locale e nel 2021, grazie ad un approccio orientato al digitale e grazie allo sviluppo di un software proprietario per la realizzazione dell'impasto, Lievità diventa una PMI innovativa. Negli anni Lievità ha ottenuto numerose menzioni e riconoscimenti e ha consolidato il suo brand con un fatturato che è passato da 500 mila euro a oltre 2 milioni di euro pre-covid e ricadi a regime attesi da 3 milioni e mezzo di euro, registrando tassi di crescita medi del 50%, posizionandosi oggi tra le migliori pizzerie d'Italia. Ma il sogno di quei cinque amici si è fatto ancora più grande e si protende verso nuovi obiettivi. Let's go further. Raggiungere nuove zone di Milano e sviluppare un network di punti vendita nel nord Italia. Let's go premium. Creare una lievità academy per la formazione del personale. Let's go sustainable. Diventare il primo brand di pizza sostenibile in Italia, sviluppando un framework di corporate social responsibility. Ma vogliamo fare tutto questo insieme e quindi Let's go together! Let's go together.